La creazione di uno stile unico è sempre una ricerca, uno scambio tra immaginazione, libertà, progresso. La creazione di uno stile unico è sempre una ricerca, uno scambio tra immaginazione, libertà, progresso. La creazione di uno stile unico è sempre una ricerca, uno scambio tra immaginazione, libertà, progresso. Controllare il tempo di apertura, monitorare il livello di batteria della porta. L'apertura dall'interno avviene con l'abbassamento della maniglia o attraverso il pulsante integrato alla maniglia. Il sistema Archie integrato sui prodotti Oikos con apertura motorizzata è studiato per favorire tra l'altro l'accesso ai portatori di handicap. La porta Oikos con sistema Archie a soluzione facciata libera permette la perfetta integrazione della porta alle finiture architettoniche. La passione rivoluziona le idee, il progresso nasce dall'innovazione. Archie di Oikos, tecnologia e sicurezza migliorano la tua vita.